Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ti amo con la tua volontà e vieni divina volontà a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste e Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la Regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana Regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volete divino, stretto alla tua mano materna. Guiderai tutto l'essere mio perché faccio vita perenne nella divina volontà. Tu mi farei da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta per tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Fra tutte le donne Maria, tu sei la benedetta e il frutto del seno tuo è la salvezza per noi. Nella parola hai creduto, tu o vergine santa, sperando e compiendo per noi la promessa di Dio. Amata e presente tu eri già prima del mondo, per essere madre di Dio e di tutti noi. Pienezza di grazia incarnata nel grembo tuo madre, al saluto dell'angelo che in silenzio annunciò. Ti chiamerò sposa, tu pura sposa del Signore. Ave Maria, sei la regina della pace, ti chiamerò madre, tu madre di misericordia. Ti chiamerò cielo, il sole di giustizia in te. Ave Maria, umile serva dell'amore, madre di Dio. Dall'Ebro di Cielo, volume sedicesimo, 20 agosto 1923 C'è poi l'esempio della mia mamma, vera santità del vivere nel mio volere. Tutto il suo interno è vissato nell'eterno sole della volontà suprema, e che dovendo essere la regina della santità dei santi, madre e portatrice della mia vita a tutti e quindi di tutti i beni, restava come nascosta in tutti, portando il bene senza farsi conoscere. Più che sole tacito, portava la luce senza parole, il fuoco senza strepito, il bene senza farsi editare. Non c'era bene che da lei non partisse, non c'era miracolo che da lei non scaturisse. vivendo nel mio volere viveva nascosta in tutti, ed era ed è origine dei beni di tutti. Era tanto rapita in Dio, tanto fissata e ordinata nella divina volontà, che tutto il suo interno nuotava nel mare dell'eterno volere, stava a giorno di tutto l'interno di tutte le creature, e ci metteva il suo per riordinarle dinanzi a Dio. Era proprio l'interno dell'uomo che aveva più bisogno di essere rifatto, riordinato, più che l'esterno, e dovendo fare il più, sembrava che lasciasse il meno, mentre era origine del bene sia esterno che interno. eppure apparentemente sembrava che non facesse opere grandi e strepitose. Lei più che il sole passava inosservata e nascosta nella nube di luce della divina volontà, tanto che gli stessi santi hanno dato di loro, facendo apparentemente cose più strepitose della mia stessa mamma. Eppure che cosa sono i più grandi santi innanzi alla mia celeste mamma? Sono appena le piccole stelle paragonate al gran sole, e se restano illuminate, la causa è il sole. Ma la donta che non facesse cose strepitose non cessava anche apparentemente di essere maestosa e bella, sorvolando appena la terra, tutta intenta a quel volere eterno che con tanto amore e violenza affascinava e rapiva per trasportarlo dal cielo in terra e che l'umana famiglia aveva così brutalmente esiliato fin nell'Empirio. E lei col suo interno tutto ordinato nel divino volere non dava tempo al tempo se pensava, se palpitava, se respirava. e tutto ciò che faceva erano vincoli affascinanti per attirare il verbo eterno sulla terra. E di fatti vinse e fece il più grande miracolo che nessun altro può fare. 10 novembre 1923 Vicina mia, nei veri piccoli non può entrare alla cattiveria. Sai tu quando incomincia a entrare il mare, la crescenza, quando incomincia a entrare il proprio volere. Come questo entra incomincia ad empirsi e a vivere di se stessa e il tutto esce dalla piccolezza della creatura. E a lei sembra che la sua piccolezza si ingrandisce ma grandezza da piangere non vivendo del tutto Dio in lei si scosta dal suo principio disonora la sua origine perde la luce la bellezza la santità la freschezza del suo creatore. Sembra che cresce innanzi a sé e forse innanzi agli uomini ma innanzi a me o come decresce forse si farà anche grande ma non sarà mai la mia piccina prediletta per cui preso d'amore verso di lei perché si conserva quale l'ho creata la riempio di me la faccio più grande e nessuno potrà pareggiarla. Ciò feci con la mia celeste mamma tra tutte le generazioni lei era sempre la più piccola perché non entrò mai il suo volere in lei come gente ma sempre il mio volere eterno e questo non solo la conserva piccola bella fresca quale non era uscita ma la fece la più grande di tutti o come era bella piccola per sé stessa grande superiore a tutti in virtù nostra è solo per la sua piccolezza che fu innalzata all'altezza di madre di colui che la formò sicché come vedi tutto il bene dell'uomo è il fare la mia volontà tutto il male è il fare la sua perciò per venire a redimere l'uomo scelsi la mia madre perché piccola e per mezzo suo come canale me ne servì per far scendere sull'umano genere tutti i beni e i frutti della redenzione ora per fare che il mio volere fosse conosciuto e che aprissi il cielo per far scendere il mio volere sulla terra vi regnasse come in cielo dovevo scegliere un'altra piccola fra tutte le generazioni essendo l'opera più grande che voglio fare il reintegramento dell'uomo nel suo principio da onde uscì aprirgli quel volere divino che lui le spinse aprirgli le braccia per vederlo di nuovo nel grembo della mia volontà la mia infinita sapienza che ama dal nulla la più piccina era giusto che fosse piccola se una piccola misi come a capo della redenzione un'altra piccola dovevo mettere a capo del fiat con un tasto a cominciare così in terra tra due piccole dovevo racchiudere lo scopo della creazione dell'uomo e dovevo realizzare i miei segni su di lui per mezzo di una dovevo redimerlo lavarlo con il mio sangue dalle sue brutture dargli il perdono per mezzo dell'altra dovevo farlo ritornare al suo principio alla sua origine alla nobiltà perduta ai vincoli della mia volontà da lui spezzati a metterlo di nuovo al sorriso della mia eterna volontà a baciarsi insieme la sua e la mia e fare vita l'una nell'altra era solo questo lo scopo della creazione dell'uomo e a ciò che io ho stabilito nessuno può apporsi passeranno secoli e secoli come nella redenzione così anche in questo ma l'uomo ritornerà nelle mie braccia quale fu da me creato e poi la vita della mia volontà è già stata sulla terra non è del tutto nuova sebbene fu di passaggio ci fu nella mia inseparabile cara mamma se la vita della mia volontà non ci fosse stata in lei io verbo eterno non avrei potuto scendere dal cielo mi sarebbe mancata la via per scendere la stanza dove entrare l'umanità per coprire la mia divinità l'alimento per nutrirmi mi sarebbe mancato tutto perché tutte le altre cose non sono adatte per me invece col trovare la mia volontà nella mia diletta io trovavo lo stesso mio cielo le mie gioie i miei contenti al più feci cambio di abitazione dal cielo alla terra ma del resto nulla cambiai ciò che avevo in cielo in virtù della mia volontà posseduta da lei lo trovavo in terra e perciò con tutto amore mi scese a prendere in lei umana carne bene ci sono alcuni passaggi di questi due scritti che certamente polarizzano un po' l'attenzione anzitutto questa piccolezza e questo nascondimento questo questo quasi scomparire della Divina Maria durante la sua vita terrena la piccolezza infinita che ne veniva proprio dalla coscienza del suo essere nulla e del suo voler conoscere e vivere di Dio solo di divina volontà sola fu una scelta originale e irreversibile che ella fece appena concepita e ad essa sempre si mantiene fedele questo suo voler scomparire per essere conosciuta da Dio solo come il segnale non forte e da nessun altro né fuori di lui non è altro che una ulteriore gemma della sua infinita umiltà ed è anche però un segreto della vita nella divina volontà che coinvolge mai lo ripeteremo abbastanza l'interiorità della vita di una persona chi sceglie di vivere nella divina volontà non vive più la vita sua come scrive San Paolo non sono più io che vivo ma Cristo vive in me pensa continuamente a Gesù e a Maria a Gesù o a Maria a come e quando fondersi nel divino volere in ogni piccola e minima azione trovarlo glorificarlo ci sono dei passaggi molto molto belli no ella viveva una vita nascosta in lui e operando nella divina volontà perché si opera interiormente assai più che exteriormente impressionante viveva nascosta in tutto ed era ed è origine dei beni di tutti questo è il segreto della vita nella divina volontà si può fare tanto di quel bene non a qualcuno non a un gruppo di persone neanche a grandi gruppi di persone ma a tutto il genere dell'umano imparando a stare a fondere ogni proprio atto con il fiat supremo se pensava se palpitava se respirava tutto ciò che faceva erano vincoli affascinanti per attirare il verbo eterno sulla terra il palpito il respiro dobbiamo pensare a queste attività inconsce no? i consapevoli che possono e devono essere divinizzate lo si fa nell'atto preventivo ci sono anche dei dei piccoli esercizi che lo spirito santo possa ispirarli nei nei cuori e nelle menti con cui si possono in qualche modo alimentare no? i pensieri se si si fusi nel volere i pensieri sono pensieri nella divina volontà quindi saranno pensieri ordinariamente belli santi positivi e propositivi e produttivi di bene era rapita in Dio questo noi sappiamo che non dipende da noi noi possiamo essere rapiti in Dio con qualche estasi cosciente diciamo così e questo dipende da quanto e quando pensiamo sempre e solo a Lui il segreto è pensare sempre e solo a Gesù e a Maria per raggiungere questo stato diciamo di chiamiamola estasi cosciente e ancora la fissata e ordinata nella divina volontà sono bellissime queste due espressioni il fissare quando una cosa è fissata da qualche parte non si muove non lo puoi smuovere si dice in senso dispregiativo di noi essere umani quello è fissato quando uno gli prende appunto un'idea fissa ma la divina volontà dovrebbe essere la nostra idea fissa e magari fossimo fissati non ovviamente in senso di genere o dispregiativo come di quelle persone che insomma diventassero un po' mezze saltate o fanatiche no? questo veramente non ha nulla a che fare con questa divina fissazione ecco chiamiamola così è ordinata questo termine è un termine tecnico potremmo dire ma è anche un termine chiave della vita nella divina volontà è l'ordine è l'equilibrio pieno totale di tutta la vita il raggiungimento di quest'ordine divino e di questo equilibrio è compito dello Spirito Santo il mio modestissimo avviso che si possono fare tanti esempi per far comprendere nel cuore delle anime che lo desiderano l'importanza di questo punto l'ordine l'equilibrio una vita che non abbia estremi non abbia eccessi o carenze no? ma in tutto questo qui questo va dall'organizzazione del tempo e dai modi di pregare che abbiamo pensiamo per esempio a chi tanto per fare qualcosa a chi magari fa 200.000 orazioni vocali e se si trova in silenzio davanti al Santissimo Sagramento non sa che dirgli per esempio non è una vita ordinata è una divina volontà questa qui diciamo come faccio tante preghiere vanno bene è una vita ordinata oppure pensiamo a chi è preso dall'idolatria del fare e trascura l'interiorità oppure non lo so pensiamo a cose a chi ha dei doveri familiari per esempio e li trascura o li cura poco a volte anche per nobili motivi con la scusa insomma della della messa della spiritualità non sto dicendo che non bisogna andare a messa ancora nella vita interiore no ma ci vuole sempre un equilibrio ci vuole sempre un equilibrio e anche qui se noi imparassimo a ascoltare il cuore dato che la vita nella divina volontà interiore il Signore ci avvertirebbe di tante situazioni questo imparare a stare dentro di noi per stare in stato di fusione e di corrente elettrica collegata attaccata con il divinvolere è un aiuto enorme perché vedete Dio opera e parla in continuazione dentro i cuori che li sono attenti ma la stragrande maggioranza degli uomini di vita interiore non ne ha neanche un bricio comprese e so quello che dico anime apparentemente devote impegnate di preghiera di frequenze sacramenti e di tutto quello che vogliamo ecco abbiamo poi un altro passaggio nel secondo scritto anche questa è una delle cose che dovremmo sempre considerare e ogni giorno chiederci ci credo o non ci credo nei veri piccoli dice Gesù non può entrare alla cattiveria perché il male comincia ad entrare quando incomincia ad entrare il proprio volere vedete perché l'umiltà è così importante nella divina volontà perché una persona che è piccola che si sente piccola che non si fida di se stesso ma non la vuole fare la propria volontà ha paura ha santa paura perché sa che basta un minimo di questo ad andare a creare problemi ad andare a creare guai ad andare a originare il male a farlo entrare bellissimo l'esempio di Gesù no? se entra il male dentro di noi il tutto esce dalla piccorezza della creatura e questa comincia a sentirsi qualcuno comincia a sentirsi qualcosa cresce no? apparentemente ecco ma come le cresce dice Gesù forse si farà anche grande ma non sarà mai la mia vicina prediletta come le cresce succede la fine del mondo si scosta dal suo principio disonora la sua origine perde la luce la bellezza la santità la freschezza la Madonna non faceva cose strepitose ci ha detto Gesù ed era tutta intenta all'interiore ma esternamente era maestosa e bella impossibile che non lo fosse a parte a parte la perfezione assoluta dei suoi lineamenti del suo corpo perfettissimo e bellissimo ma noi sappiamo oggi girano tanti corpi bellissimi ecco dentro le quali purtroppo vivono anime corrotte e per quanto uno possa essere bello lo sguardo il portamento i modi di muoversi rovinano palesemente tutta quanta quella bellezza invece nella Madonna la già infinita immensa bellezza esteriore si univa come riverbero continua come trabocco di luce la sua straordinaria vita interiore che non è nascosta certamente ma non può non produrre effetti visibili e impossibili se rimaniamo piccoli se cominciamo come fece la madonna nel grembo materno lei ebbe un fremito ebbe l'orrore dice ma mica sarà mai che io farò un solo atto di volontà mia e andrò a far piangere il mio creatore e andrò a perdere tutti i beni non sia mai e legò la sua volontà a quella dell'eterno e non la volle conoscere mai più e non la conobbe mai e questo cosa le causò che Gesù preso d'amore folle verso di lei è folle si può dire in questo caso si è conservata guarda l'ha creata l'ha riempita di lei e l'ha fatta la più grande e nessuno potrà mai pareggiarla o tenere le teste c'è una uno slogan semplice da imparare che Gesù cita tutto il bene dell'uomo è il fare la mia volontà è tutto il male a fare la sua proviamo a farci attenti a queste cose quando guardiamo le persone si vede subito quando una persona vive di volontà umana o cerca di vivere di volontà divina immediatamente e in tutto il male che vediamo nei difetti degli altri anche in quelli che ci arregano fastidio un figlio della divina volontà non dovrebbe mai avere reazioni né interiormente né esteriormente disordinate tornando all'ordine che sia nella divina volontà sono una grandissima pena una grandissima compassione quindi una più fervorosa preghiera qualche ti amo messo nel cuore dei nostri simili perché accogliano la grazia e poi il dono della divina volontà eccessino di fare una vita così brutta così miserabile così meschina così priva di senso così fatta di cose piccine 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 così triste così vuote così brutta proprio la divina maria fu chiamata ad essere l'unico membro della razza umana almeno fino a qualche tempo fa che avesse vissuto nella divina volontà quando Gesù dice la mia volontà è già stata sulla terra non è del tutto nuova lo dice a Luisa sebbene fu come di passaggio e ritorno a dire che la vita nella sua volontà era condizione imprescindibile perché potesse incarnarsi perché non c'è nessun'altra cosa degna di lui di questo bellissima l'espressione che Gesù dice l'incarnazione ho fatto cambio d'abitazione è come quando uno cambia la casa ma del resto nulla cambia perché la divina volontà c'era la santissima trinità la divina volontà trovata in mia madre nella divina volontà si trova la nobiltà perduta bellissimo e Gesù gli fa una promessa fa una promessa che questa cosa verrà passeranno secoli e secoli come nella redenzione forse ora noi sappiamo che è possibile far entrare ciascuno come anima come singolo può vivere questa vita se vuole lo può ma è promesso il regno della divina volontà no? e qui dice è lo scopo della creazione gli uomini devono vivere così così felici così nobili così santi così belli con la volontà umana e la volontà divina che sta nell'atto di baciarsi incessantemente e fanno vita l'una nell'altra Dio ha creato l'uomo per questo e le parole che Gesù dice sono perentorie era questo lo scopo della creazione dell'uomo e a ciò che io ho stabilito nessuno potrà opporsi quindi passeranno secoli e secoli anche in questa cosa come nella redenzione ma l'uomo ritornerà nelle mie braccia quando fu da me creato è un decreto questo qui si capisce benissimo che è un decreto divino e i decreti divini presto o tardi non sappiamo quando ma sappiamo che si compiranno senza nessuna possibilità che qualcuno li possa fermare perché contro la divina volontà non c'è possibilità alcuna di chi possa appurvisi e quindi questo sarà per ora dopo che ho vissuto e ho operato sulla terra questa seconda piccola anima come Gesù la chiama come lo spiega tante volte perché in sé cominciasse a vivere nella divina volontà quindi per poi fare diciamo così da apripista perché questo tono si potesse riversare da prima da quando sembra di capirsi singolarmente nell'anima di coloro che la accorgono e che la vogliono vivere poi in maniera diffusa sappiamo come quanto sappiamo che così dovrebbe essere da questo momento in poi no un po' come dice Gesù nel Vangelo la legge dei profeti fino a Giovanni da quel momento in poi si annuncia il regno di Dio e ognuno si sforza per entrambi così potremmo dire fino a quando non c'erano questi bellissimi doni si cercava di sforzarsi di vivere la santità nell'ascetica ordinari ora si tratta di polarizzare gli sforzi su questo che è appunto di una vita che sia interrottamente connessa H24 in tutto e per tutto con il divino volere per essere davvero felice produttrice fuoriera di beni immensi non soltanto per sé ma per tutta l'umanità di tutte le generazioni passate e future è una vera anticamera del paradiso aperta anche tutte quante quelle grazie strepitose portentose mai viste che il Signore ha promesso anche queste per coloro che vivono davvero nella divina volta o divina Maria piccolissima e nascostissima siamo nel mese a te dedicato il mese in cui la Chiesa si ricorda quanto è importante essere mariani perché se non siamo ben mariani non possiamo essere ben cristiani essere mariani significa anzitutto come abbiamo visto oggi imparare da te l'umiltà vera la diffidenza estrema che dobbiamo avere nei confronti di noi stessi la preghiera principale che dovremmo fare al Signore è salvami da me stesso salvami dalla mia volontà e sarebbe certamente saudita e sommamente a te gradita e il tuo essere completamente nascosta o questo quanto dobbiamo imparare non lasciare trasparire all'esterno nulla di tutto quello che è il nostro interno la nostra vita anteriore lasciare che traspaia solo quello che è inevitabile che traspaia cioè quella pace quella gioia quella serenità quella amore e carità in cui si immersi e in cui si vive che poi si traboccano negli sguardi nei modi nei tratti negli atti e basta il nostro piccolo sogno che speriamo presto diventi realtà nella divina volontà nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo amore ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti e di ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico per una divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Fiat Ave Maria